Ciao a tutti cari amici di Uno sguardo al passato e benvenuti in un nuovo video. Io sono Diana e oggi vedremo assieme la vita del compositore Francesco Cilea, colui che scrisse l'Adriana Lecouvreur, l'Arlesiana, ma ovviamente non solo. Pronti? Sigla! Francesco Cilea nacque a Palmi, nella provincia di Reggio Calabria, il 23 luglio 1866. Il padre, Giuseppe, era un avvocato civilista. Francesco Cilea fu indirizzato fin da bambino agli studi di tipo classico, nel desiderio del padre che proseguisse la professione di famiglia, ma allo stesso tempo aveva ricevuto, grazie proprio a suo padre, i primi insegnamenti di tipo musicale. Infatti il padre lo fece studiare pianoforte con il maestro Rosario Ionata, ovvero il direttore della banda del paese. Francesco era inoltre immerso fin da piccolissimo nella musica operistica, grazie anche alla zia Eleonora Grillo che era solita suonare brani d'opera al pianoforte. Insomma, Francesco era ancora un ragazzino quando ebbe modo di ascoltare la banda cittadina diretta proprio dal suo maestro, che questa banda eseguiva il finale della Norma di Bellini e si dice che fu proprio quell'ascolto che lo portò alla decisione di dedicarsi alla musica. Tuttavia, l'infanzia di Francesco, seppur agiata, non fu delle più semplici. Aveva infatti solamente sette anni quando la madre Felicia Grillo, a causa di disturbi psichici, fu ricoverata in un centro di igiene mentale. Fu così che il padre decise che Francesco e il fratello Michele si dovessero trasferire in un convitto a Napoli, dove fortunatamente Francesco poteva proseguire con lo studio del pianoforte. Invece le tre sorelline raggiunsero la zia Flavia, ovvero la sorella del padre, che era una suora in un convento di Caserta. Durante il periodo al convitto, il direttore del collegio e Francesco Florimo, ovvero lo storico che era stato amico del Bellini, si accorsero delle spiccate doti musicali di questo giovane e sollecitarono così il padre avvocato di scrivere il giovane ormai dodicenne al conservatorio. Francesco iniziò così gli studi al conservatorio San Pietro a Maiella, a Napoli, nel novembre 1878 sotto la guida del maestro Beniamino Cesi, che era un pianista e anche un compositore e che fu addirittura un allievo di Talberg. Il tutto con qualche ovvia riserva del padre che lo avrebbe voluto avvocato, ma diede fiducia a suo figlio, gli lasciò scegliere la sua strada senza ostacolarlo, ma anzi sostenendolo economicamente negli studi ed anche per un piccolo problema di salute, ovvero una malattia all'orecchie che porterà Francesco in anzianità ad avere quasi una sorta di sordità. Fu poi invece il fratello Michele che farà felice il padre proseguendo nella professione di avvocato. Ottenuto finalmente amoroso e pieno assenso di mio padre, io studiai indefessamente armonia e pianoforte e dopo un anno di collegio vinsi il concorso per il posto gratuito nel ramo composizione. Mi sento in dovere di evidenziare il fatto che all'epoca Napoli era una città culturalmente vivissima ed innovativa. Dalla tradizione storica di Pergolesi, Paesiello e Cimarosa continuavano a sbocciare fior fior di musicisti, nascevano nuove orchestre, insomma era un ambiente musicalmente elevato ed estremamente stimolante, praticamente perfetto per un giovane e talentuoso musicista come era allora Cilea. Tanto per fare un esempio, nel 1880 Cilea ebbe modo di incontrare al conservatorio Richard Wagner ed era proprio nel periodo in cui lui stava lavorando al Parsifal. Fu infatti presentato Cilea tra i giovani compositori talentuosi del conservatorio e pensate che assieme a lui fu presentato anche Umberto Giordano, il futuro autore dell'Andrea Chenier. Delle prime composizioni di Cilea durante il periodo al conservatorio di Napoli non ci rimane purtroppo molto. Abbiamo due brevi litanie, uno scherzo ed uno scherzando per pianoforte e la romanza Solea ad ogni alba al nascere. Probabilmente il primo scritto di canto di genere non sacro risalente proprio a questo periodo tra il 1883 e il 1884. A questi lavori compositivi si affancava però uno studio assiduo del pianoforte. Cilea doveva essere un pianista davvero eccellente. Basti pensare che al settimo anno di pianoforte si esibiva in concerto con la patetica di Beethoven, Chopin e anche trascrizioni operistiche del suo maestro sulla Lucia di Lammermoor nello stile proprio delle trascrizioni di Talberg e Liszt che erano, a detta del suo maestro stesso, difficilissime. Altre composizioni del periodo, appunto del 1884, sono una danza calabrese per pianoforte e la romanza Il mio canto. Insomma, il 1884 fu per Cilea sì un anno di grande produzione ma anche un anno di gravi perdite. Morì infatti la madre e morirono anche due delle sue sorelline. Gli studi al conservatorio proseguivano comunque a gonfie vele. Ricevette infatti la nomina di primo alunno maestrino, con l'incarico di dirigere l'orchestra e i cori della scuola e seguire anche i giovanissimi allievi di composizione. Tra le composizioni di questo periodo, tra il 1885 e il 1886, troviamo due serenate per canto e pianoforte, un trio in re maggiore e nel 1887 il primo lavoro sinfonico, ovvero una suite in quattro tempi che gli valsa addirittura una medaglia d'oro dal Ministero della Pubblica Istruzione. Da tanti buoni ospici ci si aspettava una prova finale d'esame al conservatorio all'altezza di un percorso di studi così. E fu così che Cilea compose addirittura un'opera, ovvero Gina, sul libretto di Enrico Volisciani, che fu rappresentata con successo nel conservatorio, ma un successo tale che l'opera ebbe ben cinque rappresentazioni. Questo era inoltre il periodo storico in cui l'editore Sonzogno, che era acerrimo rivale dell'editore Ricordi, cercava nuovi talenti e non mancò ovviamente di accorgersi del talento del giovane Cilea. Cilea nel frattempo era in piena attività compositiva, soprattutto per quel che riguarda romanze per canto e pianoforte, ma Sonzogno, che ne apprezzava il lato operistico, operistico, commissionò al giovane Cilea La Tilda, un'opera di stampo verista in tre brevi atti, sul libretto di Angelo Zanardini. Il soggetto non doveva piacere particolarmente a Cilea, che lo considerava molto volgare, ma l'occasione di comporre per Sonzogno era ovviamente irrinunciabile e così, nonostante la scarsa simpatia per quest'opera, fece il suo lavoro. Tutto questo mentre stava in realtà lavorando al conservatorio in qualità di docente di pianoforte e di armonia. Fu così che Cilea portò alle scene l'opera La Tilda il 7 aprile 1892 al Teatro Pagliano di Firenze. L'opera ebbe un suo seguito, fu ripresa infatti in diversi teatri, sia in Italia che all'estero. Infatti approdò anche alla famosa esposizione di Vienna nell'autunno dello stesso anno. Tuttavia fu presto accusata di essere un'opera troppo truculenta e fu l'editore stesso, Sonzogno, a ritirare lo spartito. Uno spartito che infatti non subì rifacimenti o modifiche, ma fu letteralmente un'opera ripudiata da Cilea, che non l'aveva amata fin dall'inizio. Purtroppo la partitura orchestrale di quest'opera è andata perduta. Rimane solamente la versione originale per canto e pianoforte e un nuovo adattamento orchestrale, però non originale, e ovviamente di tempi molto più recenti. Il successo comunque ottenuto da quest'opera aveva portato notorietà a Cilea, che si misi subito a caccia di un nuovo soggetto operistico. Inizialmente considerò il libretto di Celeste, un'opera di Leopoldo Marenco, ma cambiò direzione a favore dell'Arlesiana. E Cilea impiegò due anni a sviluppare quest'opera, sotto la costante pressione di Casa Sonzogno, che desiderava controbattere i successi di Puccini, quali Manullesco e la Bohème, e che Puccini ovviamente era un baluardo della cerrima nemica Casa Ricordi. Il 27 novembre 1897, quindi cinque anni dopo il debutto della sua seconda opera, venne data finalmente alle scene la nuova opera di Cilea, l'Arlesiana, e fu al Teatro Lirico di Milano. E indovinate chi era il giovanissimo tenore che cantava il famoso Lamento di Federico alla sua prima assoluta? Niente meno che Enrico Caruso. Ci aspetteremmo che un'opera così sia stata da subito un successo. E invece no, forse a causa di un cast vocale femminile non proprio adeguato. Sonzogno decise così di sospendere ulteriori esecuzioni dell'opera, e questa decisione provocò nel compositore un certo risentimento. Cilea iniziò quindi ad apportare modifiche all'opera, talvolta anche drastiche, ed innumerevoli volte, tentando un nuovo rilancio che la portasse al successo, ma niente da fare. L'unico momento di luce di quest'opera fu durante il fascismo, ovvero negli anni 30, nel periodo in cui nei teatri si dovevano mettere in scena opere italiane. E lì, a detta dello stesso Cilea, in quell'occasione ebbi fortuna. Nel dicembre 1897 gli fu offerta la Cattedra di Armonia all'Istituto Musicale di Firenze, che lui accettò immediatamente. Gli anni florentini furono per lui il periodo di maggior produzione per quel che riguarda la composizione musicale. Sonzogno lo tentò con un nuovo libretto, ovvero il Don Cesare di Bazan, ma Cilea non era convinto. Il librettista Arturo Colauti gli propose anche il libretto Gli Amori degli Angeli, ma la verità è che nella mente di Cilea c'era già il pensiero di Adriana Lecouvre. Iniziò così a lavorare lentamente sul libretto di Adriana, lentamente perché questo libretto gli arrivava piano piano a piccole parti. Cilea vi lavorò a pieno ritmo e nell'estate del 1902 si riterò a Fiesole, vicino a Firenze, per lavorare proprio sugli ultimi dettagli del libretto con Colauti e soprattutto per lavorare sulla strumentazione dell'opera. E fu così che cinque anni dopo il debutto di Arlesiana venne alla luce la magnifica Adriana Lecouvre, il 6 novembre 1902 messa in scena sempre al Teatro Lirico di Milano. Interprete nel ruolo di Maurizio e anche questa volta il grande Enrico Caruso. L'aspettativa era altissima, Sonzogno non aveva badato a spese e l'opera fu infatti un enorme successo e tutt'oggi quest'opera è sicuramente la più amata ed eseguita di questo compositore. Adriana Lecouvre venne definita una delle migliori opere dell'ultimo decennio, ovvero la partitura più aristocratica della giovane scuola e che portò finalmente Cilea alla gloria. Siamo nel primo decennio del Novecento e tutti i teatri del mondo se la contendevano. Addirittura ad una rappresentazione dell'opera a Firenze dove era presente la famiglia reale italiana D'Annunzio salì sul palcoscenico per congratularsi personalmente davanti a tutti con Cilea. L'opera ovunque venisse rappresentata era seguita da un successo strepitoso. Cilea iniziò così la ricerca per un nuovo soggetto da musicare tra cui accarezzò l'idea di una Francesca da Rimini proprio dall'omonima opera di D'Annunzio. Lesse e rilesse tantissimi libretti ma alla fine ritornò dall'amico librettista Colautti per il libretto di Gloria ambientato nella Pisa medievale. Cilea si impegnò nella composizione veramente con tutto se stesso abbandonò addirittura la cattedra in conservatorio a Firenze e si trasferì a Milano ed è proprio in questo periodo durante il soggiorno in Liguria che conobbe Rosi Lavarello che divenne sua moglie il 26 giugno 1909 una coppia che non ebbe dei figli ma vissero davvero uniti per tutta la loro vita. L'opera Gloria venne così completata e Sonzogno anche in questa occasione non vado a spese per la messa in scena e affidò la direzione ad Arturo Toscanini. Gloria tragedia in tre atti sul libretto di Colautti ebbe il suo debutto al Teatro alla Scala di Milano il 15 aprile 1907 e l'opera inizialmente ebbe un grande successo però nessun teatro sembrava interessato a rappresentare la nuova opera non venivano richieste delle repliche in altri teatri quelli erano gli anni della grande rivalità tra gli editori Sonzogno e Ricordi entrambi cercavano di mantenere la loro opposizione al Teatro alla Scala alternandosi alla direzione in modo talvolta catastrofico e purtroppo cercando spesso di mettersi reciprocamente i bastoni tra le ruote forse anche a causa di questa rivalità l'opera Gloria di Cilea nonstante fosse appunto di buona riuscita e con uno stile compositivo innovativo finì per rivelarsi nel lungo tempo un insuccesso la delusione per questa fine ingloriosa dell'opera fu per Cilea immensa il compositore tentò di iniziare una nuova opera il matrimonio selvaggio che fu però destinata a rimanere incompiuta Cilea finì così per abbandonare la composizione per il teatro d'opera fu tentato a più riprese di rimettersi a comporre opera nessuno esempio degli abbozzi di libretto come Il ritorno dell'amore di Renato Simoni Malena e la rosa di Pompei di Ettore Moschino ma non si concretizzarono Cilea continuò invece il suo lavoro di compositore in ambito cameristico sia vocale che strumentale e nonché nella musica sinfonica dove fu estremamente prolifico nel 1913 scrisse un poema sinfonico in onore di Giuseppe Verdi che fu eseguito al teatro Carlo Felice di Genova nello stesso anno a causa di malumori interni a casa San Zogno il clima divenne impossibile venne addirittura tolto il compenso mensile a Cilea e Cilea decise così ad un certo punto di dedicarsi all'insegnamento fu infatti il direttore dei conservatori di Palermo e di Napoli e sempre con esiti estremamente positivi per entrambi i conservatori nel 1932 grazie a numerose riprese delle sue opere gli venne proposto di riprendere la sua attività di compositore d'opera ma Cilea rifiutò continuò comunque a comporre ancora altre liriche per voce pianoforte e si mise anche al lavoro nel rifacimento dell'Arlesiana e dell'opera Gloria ma decise di non comporre nuove opere Cilea morì il 20 novembre 1950 a Varazze una cittadina ligure nella provincia di Savona a causa di un attacco di Pleurite la sua salma riposa ora nella città di Palmi ovvero la sua città natale dove è custodito tutt'oggi il suo lascito alla Casa della Cultura all'interno di questa casa fu eretto in suo onore un mausoleo dove viene riportato il suo ultimo pensiero alla sua città vi prego di dire alla nostra diletta Palmi tutta la mia filiale riconoscenza e tutto il mio amore ditele che essa resterà sempre nel mio cuore con un attaccamento sempre più vivo e tenace quanto più il cumulo degli anni affretta il mio distacco alla vita per onorare la sua memoria il conservatorio ed il teatro di Reggio Calabria sono stati intitolati a suo nome e se come me state pensando che sia stato un gran peccato che Cilea ad un certo punto abbia deciso di non scrivere più opere vi ricordo però che Cilea visse non solo delle delusioni particolarmente cocenti pensate che lavorare più di cinque anni su un'opera che poi non viene più rappresentata credo possa risultare davvero devastante ma bisogna considerare che Cilea vide nella sua vita ben due guerre mondiali è comprensibile che in una vita segnata sì dal successo ma anche da tante delusioni e dal clima feroce delle guerre lui abbia deciso ad un certo punto di vivere serenamente e senza le infinite pressioni dei teatri e degli editori e soprattutto decise di tramandare ai suoi allievi la sua arte lasciando così la sua eredità musicale in mano le generazioni future questo video è dedicato a Jessica che ha richiesto una breve biografia su Cilea e vi ricordo che se volete segnalarmi altri argomenti che vi farebbe piacere affrontare sono qua scrivetemi tranquillamente e se il video vi è piaciuto potete farmelo sapere con un like e un commento ed invito chi non fosse ancora iscritto al canale a farlo che aspettate e noi ci rivediamo prestissimo con un nuovo video ciao ciao